Un tema molto caldo affrontato da molte persone è quello di trasformare la propria passione in lavoro. Ora voglio parlare di questo aspetto perché c'è tantissima confusione e dobbiamo tenere sempre in considerazione una cosa, anzi due. La prima è che ci deve essere mercato, la seconda devi supporre che prima o poi quella che è la tua passione, che adesso fai perché ti piace, dopo un po' diventerà un lavoro e quindi tutta quella passione non ce l'avrai più. Per cui se vogliamo lanciarci in questa direzione, come ci dobbiamo muovere? Innanzitutto dovremo fare un elenco di tutte le competenze, gli interessi che abbiamo. Questo ci permette di identificare quali sono le aree verso le quali poterci muovere. Questo è il primo step. Una volta fatto questo, per ognuno di questi elementi, di queste competenze che abbiamo, queste caratteristiche, dobbiamo capire se c'è effettivamente una domanda di mercato. Quindi dovremmo chiedersi, ci sono persone disposte a pagare per avere questa competenza che io posso dare? Se la risposta è sì, allora forse c'è mercato. Il passaggio successivo ovviamente è di testare questa idea, quindi iniziare a cercare di promuoverla per vedere se c'è risposta. Semplicemente questo è l'unico modo molto sensato, semplice, a costo praticamente nullo, per verificare se quella che è una tua passione si può trasformare realmente in un lavoro. Però voglio sottolineare nuovamente il fatto che anche se ci fosse mercato, sappi che quella che oggi è una passione, quando sarai costretto a farla? Tutti i giorni, perché se non lo fai non arrivi a fine mese, perché quando passi da dipendente o comunque quando ti metti nella libera professione, se non lavori non guadagni, devi entrare in quest'ottica. Quindi, a meno che la tua idea di business non abbia una struttura imprenditoriale per la quale riesci a funzionare anche senza l'utilizzo del tuo tempo, allora in quel caso da questo punto di vista sei a posto. In ogni caso lo devi tenere in considerazione, perché per quanto ti piaccia fare qualcosa, quando sarai costretto o costretta a farla tutti i giorni, non lo amerei più così tanto. Guardate attorno e guardate quante persone adorano fare da mangiare. Ad esempio ci sono persone veramente appassionate di dolci, che fanno torte per le feste di amiche, fanno dolci quando capita, eccetera, e non è la prima volta che una di queste persone apre una pasticceria. Ora, quando ti trovi in quella condizione, quando passi da avere una passione ad avere un'attività, tutto cambia e quello che oggi ti piace potresti arrivare ad odiarlo e questo lo devi assolutamente tenere a mente. Per cui, fai l'elenco delle cose che ti piace fare, che sei fare, chiediti in modo veramente molto semplice se credi ci siano persone disposte a pagare per questo tipo di cose che sei fare, passo successivo prova a proporlo nel mercato per vedere se effettivamente c'è risposta. Questi tre semplici passaggi ti permettono perlomeno di evitare di fare un buco nell'acqua colossale, come si vede in alcuni casi perché persone che hanno quelle che ritengono essere l'idea del secolo si scontrano poi con il mercato dove di fatto nessuno è interessato a quell'idea. E di conseguenza non c'è mercato per quel business e non è possibile monetizzarlo. Muovendoti in questo modo eviterai perlomeno quella situazione. Per cui, se vuoi avviare un'attività, pensaci bene, fai questi tre passi, poi fai le considerazioni che ti ho suggerito e valuta se effettivamente lanciarti in questo business oppure no. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se superi i primi tre passaggi, chiediti se la tua idea di business si può trasformare in ambito imprenditoriale, ovvero se può essere portata a una crescita senza necessariamente l'utilizzo del tuo tempo. Perché se ti piace fare torte e lavori tantissimo, arriverei a un punto che la richiesta aumenterà e sarai costretta a cercare persone che ti aiutano, aumentare le dimensioni del tuo negozio, comprare nuove macchinari, eccetera. Ok, è fattibile questa cosa? Se la risposta è sì e soprattutto se è gestibile da un punto di vista imprenditoriale, quindi tutto può funzionare anche senza la tua partecipazione attiva, allora effettivamente hai un business e non stai solo costruendo un lavoro attorno alla tua passione, che è una cosa, come dicevo, pericolosissima. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!